Bene, buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati per chi c'era prima al Linux del 2017 dell'Uglicenza. Questo talk è dedicato un po' meno alla privacy, un po' più generico sullo sviluppo di applicazioni web e l'ho intitolato come sviluppo le applicazioni web per parlare di un mio modo di approcciare questo problema che ovviamente non è l'unico, non è quello necessariamente più giusto per tutti, è solo il metodo che uso io e che mi ha permesso di migliorare il modo in cui lavoro riducendo i problemi, le scocciature di debugging eccetera e quindi io mi trovo bene con questo sistema e ve lo presento oggi. E sarà anche un modo di presentare anche delle tecnologie che magari sono un po' meno utilizzate rispetto a quelle più note. Io appunto di lavoro sviluppo software, principalmente faccio anche consulenza informatica, ho sviluppato diversi tool open source che potete trovare su internet, alcuni sono script per salvare video da internet, Recuperabit è un software in Python che serve per ricostruire partizioni NTFS distrutte e quindi è un software di analisi forense e poi sono un socio tra i fondatori di Grappalug. Grappalug è il Lug di Bassano del Grappa, che ovviamente siamo in ottimi rapporti con il Lug di Vicenza, con lo di Schio eccetera perché ci occupiamo tutti della promozione del software libero. Allora, questo sarà un talk un po' più tecnico di quello che ho fatto prima, quindi magari chi ha già qualche esperienza di programmazione sarà un po' più avvantaggiato nel capire alcuni dettagli particolari, però insomma cerco di tenerlo abbastanza discorsivo. La prima parte sarà dedicata a parlare un po' di PHP, perché PHP è una tecnologia molto diffusa nell'ambito dello sviluppo web, forse quella più diffusa. Dopodiché passeremo al workflow che uso io per sviluppare di solito applicazioni web, almeno nella maggior parte dei progetti in cui questo tipo di workflow si applica. E infine farò vedere brevemente come dopo aver seguito questa metodologia di sviluppo viene fatto il deploy dell'applicazione, quindi passare il codice dell'applicazione dalla macchina di sviluppo alla macchina di produzione, che sarebbe il server web su cui dopo gira, quindi solitamente un server cloud oppure un server posizionato nell'azienda cliente. Ok, allora, prima parte PHP. Chi di voi ha già visto qualcosa di sviluppo software sa che tantissimi progetti, tantissimi gruppi di sviluppo usano PHP per sviluppare applicazioni web e solitamente questo viene associato a MySQL come sistema di database relazionale, tanto che lo stack più classico si chiama LAMP, cioè Linux, Apache, MySQL e PHP. Infatti ci sono anche dei progetti di successo, ad esempio WordPress, Wikipedia, Dig o Facebook, che sono fatti in PHP ed effettivamente, essendo fatti da team competenti di persone che sono veramente molto brave, sono dei progetti che funzionano. Allora uno diceva, vabbè, PHP è perfetto per fare applicazioni web. Parliamone, parliamone perché vedremo PHP in realtà ha una serie di problemi, ok la sto mettendo molto sul buono, in realtà ha una lista infinita di problemi, di caratteristiche assurde, di biosincrasie, di scelte di sviluppo che sono a dir poco azzardate oppure completamente casuali, che lo fanno diventare un linguaggio fondamentalmente inconsistente. Inconsistente lo vediamo già dai nomi delle funzioni. Solitamente chi sviluppa un linguaggio di programmazione decide una convenzione per i nomi e la applica più o meno a tutte le funzioni. In PHP abbiamo funzioni con le parole tutte attaccate, funzioni separate da underscore, abbiamo funzioni in cui la conversione tra due unità viene indicata col 2, come abbreviazione di tu, altre funzioni in cui si usa la parola tu per intero. Abbiamo funzioni dove un prefisso micro viene indicato tipo microtime, è indicato così, ma nell'altro usleep la u è indicazione comunque di micro come unità di misura, quindi anche qui non c'è nessuna coerenza e sembra che i nomi siano stati scelti praticamente a caso. E' emblematico secondo me per rappresentare il livello di bassa considerazione che è stata posta nella progettazione del linguaggio e questo magari farà ridere a chi ha già studiato il linguaggio di programmazione, come si sviluppano. La funzione HTML special charts, che anche qua, cioè il nome più lungo potevano metterlo, vabbè, l'autore stesso di PHP, Rasmus Lerdov, diciamo il creatore, perché dopo ci hanno lavorato tanti, ha detto, beh, quella era una delle prime funzioni, al tempo PHP aveva meno 100 funzioni, per cui il meccanismo di hashing per i nomi era string length. Cosa vuol dire? Tradutto in parole semplici, non ci potevano essere due funzioni il cui nome aveva la stessa lunghezza, perché PHP avrebbe pensato che fossero la stessa funzione. Vi sembra normale? A me no. Però questo era il livello che è stato messo nella progettazione, quindi mettiamo l'hashing con la lunghezza delle stringhe. Io, quando penso a queste cose, mi immagino se PHP fosse una persona, come mi rivolgerei a PHP? Francamente, non in modo carino. Infatti ho trovato una frase da una canzone che mi piaceva proprio il tono che aveva, che è questa. E chi non sa l'inglese? Ok, c'è scritto, sono stufa di questa popò, non negarlo, sei una perdita di tempo, sono stufa di questa popò, non chiedermi perché. Questo è il pensiero che viene a tutti quelli che si imbattono con PHP. Prima o poi ti viene da dire, ma perché sta porcheria qua? Cioè, chi l'ha fatta sta roba? Rasmur Lerdov. Vabbè, comunque. E quindi, il titolo della canzone è Posso fare di meglio. Certamente possiamo fare di meglio rispetto a PHP. Andiamo avanti. Tipi operatori. Secondo voi in PHP null è minore di meno uno? Chi dice sì? Chi dice no a tutti gli altri? O sono tutti astenuti? Astenuti? Beh, non è un concorso, cioè non è che vincete o perdete nulla. Null sarà uguale a zero? Chi dice sì? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Quindi se è uguale a zero non può essere minore di meno uno. Quindi diciamo che è uguale a zero, quindi quella sopra è falsa e quella sotto è vera. Ok. Il numero 2000 è uguale alla stringa 2 e 3? Chi dice sì? Uno. Chi dice no? Gli altri? O astenuti? Bene, tutte queste sono true in PHP. Eh? Perché in notazione scientifica 2 alla terza fa... No, no, no. Ah no, quella è impossibile, non è transitiva, ma null non è un numero peraltro, quindi... Allora, in PHP ci sono ugualianze che non sono transitive. nulla può essere uguale a zero e false può essere uguale a zero, ma nulla è diverso da false. Adesso non mi ricordo se è questo il caso, però ce ne sono di alcuni esempi così. I confronti con l'uguale uguale 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 sono praticamente inutili. Infatti PHP ha un altro operatore che è uguale uguale uguale, che funziona solo con i dati dello stesso tipo e praticamente tutte le guide di PHP ti dicono non usare mai uguale uguale, non è utile, non serve a niente e non funziona. Quindi usi solo l'uguale con tre... Allora, perché l'hai messo? Scusa se non serve a niente. È così. Ma capiamo perché. Non c'era nessuna intenzione di scrivere un linguaggio di programmazione. Non ho idea di come si scrive un linguaggio di programmazione. Questo autore di PHP. E le quote le potete trovare tutte, le interviste, eccetera, sono tutte documentate su Wikiquote e altri siti. Quindi questo spiega tante cose. Infatti quel comportamento lì degli operatori, minore, maggiore, uguale uguale, è completamente privo di... Non si riesce a capire questo comportamento qua. Andiamo avanti con la canzone. Sei così pieno di popò? Non posso sopportare il modo in cui ti comporti, semplicemente non riesco a capirlo. Questo è PHP, signori. È impossibile capire come si comporta, che senso ha. Ci sono delle cose che non hanno un senso logico in PHP. Eppure tutti vogliono utilizzarlo per fare programmazione web. Io no. Ok. Andiamo avanti. Messaggi di errore. Se io scrivo questo codice che è sbagliato in PHP, perché ho creato x uguale e poi non ho scritto niente e ho finito il codice. Così. Finito il programma. Cosa mi dirà PHP? Beh, mi dirà che lo statement è incompleto, che manca un pezzo. No, mi dirà, eh, non mi aspettavo il punto e virgola. Se qualcuno lo vede me lo dica perché io ho fatto fatica a trovarlo. Ok. Allora, definiamo una funzione fu che in PHP si possono tipare alcune dichiarazioni, tipo string s, e dopo chiamiamo hello world. Mi hai passato un'istanza di stringa e io mi aspettavo stringa. Ok. Vabbè. E quindi? Comodissimo questo. Ero molto, molto scarso nello scrivere i parser, sono ancora molto scarso nello scrivere i parser. Chi l'avrebbe mai detto? Il parser, per chi non lo sapesse, è il componente software che si occupa di spezzare il codice in dei pezzetti, i token, quindi dollaro x sarebbe un token uguale a un altro token e così via, il punto e virgola è un token. Ed è la prima parte dell'interpretazione del codice. Se tu non sai scrivere il parser, dopo tutto il resto verrà una porcheria. Ecco, quindi l'unica soluzione, diciamo, quando si lavora con PHP, praticamente è, come termina la prima parte della canzone, bere limoncello a manetta. E piegarsi di limoncello e forse allora si riesce a capire PHP, perché altrimenti non si riesce a produrre. Però, ok, noi vogliamo fare di meglio e vogliamo soprattutto sviluppare software. Quindi, cosa possiamo fare? Oltre a bere per dimenticare, questo l'avevo scritto su Facebook, ci sono due cose che risolvono tutti i problemi della vita, Python e il limoncello. Il limoncello l'abbiamo già affrontato prima, manca Python. Qui entra in gioco un altro linguaggio di programmazione, appunto Python. Come è Python? Beh, i tipi di dato hanno senso. Quindi gli interi si comportano da interi, le stringhe da stringhe e così via. I messaggi di errore hanno senso, anche gli operatori naturalmente, uguale, uguale, minore di, eccetera, si comportano in modo sensato. I messaggi di errore hanno senso, quindi se Python mi dice che c'è un errore alla riga 18, è la riga 18. Se PHP mi dice che c'è un errore alla riga 18, in realtà era la 42. Oppure viceversa. Infatti non ho capito perché PHP non ti dà mai la riga giusta dell'errore. È tipo caccia il tesoro, c'è un errore qua, quando te lo dice. E te lo devi cercare. E è facilissimo da imparare. E oltre a essere facilissimo da imparare, è anche cosiddetto batterie incluse. Cioè lo slogan di Python è Batteries Included. Che significa sostanzialmente che ci sono moltissimi componenti già pronti, funzioni, funzionalità e funzioni, metodi, eccetera, che coprono tutta una serie di problemi. E ci sono tante librerie aggiuntive già fatte che ti nascondono la complessità delle cose. Tipo, ci sono librerie per comunicare con altri tool a basso livello, librerie per, se programmate su Raspberry, ci sono le librerie per gestire i pin direttamente da Python, quindi mandare i segnali elettrici sui singoli pin con Python, perché ti nascondono tutta la complessità. Ci sono librerie per connettersi a server web, per creare server web. Insomma, tutta una serie di componenti che praticamente ti rendono il lavoro più semplice, perché non devi ogni volta reinventare la ruota facendo da capo delle cose che qualcun altro ha già fatto, magari dei team di 12-20 persone hanno già fatto benissimo, non devo rifarmeli da capo io, perché ci sono già. E allora qui si cambia musica. Python è uno stato di beatitudine, pensi di se stai sognando, è la felicità che stai sentendo dentro, è talmente bello che ti viene da piangere. Questo è Python. E lo vedrete se lo provrete anche voi. Ora, per le applicazioni web, Python da solo non basta, perché di suo non è adatto alle applicazioni web, però c'è un modulo di Python che si chiama Flask, è un micro framework web per Python. Quindi è un modulo di Python, si installa col gestore dei pacchetti di Python, dopo vediamo. E la cosa che a me piace molto di Flask rispetto ad altre piattaforme magari è che è poco invasivo, quindi è veramente micro. Non ti obbliga a avere 100.000 componenti e a fare le cose per forza come vuole lui, quindi non so, dicendoti tutte le URL devono essere in questa struttura, eccetera. Ti dà solo degli strumenti che ti consentono di progettare l'applicazione per conto tuo, però ti rendono la vita più facile su tante robette, per esempio gestire le richieste su certi indirizzi o estrarre i parametri dall'url che l'utente ha inserito o ridirezionare le pagine, queste cose qua che scrivere ogni volta per fare una ridirezione in HTTP bisognerebbe ogni volta mandare un messaggio di tipo 302 con l'url nuovo, eccetera. Sono due o tre righe di comandi che sono sempre le stesse, Flask te lo fa in automatico, tu gli dici mandami un redirect qua e te lo fa. Quindi, e poi è anche veloce da imparare e, cosa interessante, Flask stesso ha un sacco di moduli che vengono utilizzati in tandem se si vuole. Per esempio Flask login è utile per tutte quelle applicazioni web che usano delle funzionalità di login, quindi praticamente più di tre quarti, perché ti gestisce in automatico le sessioni, la scadenza dei cookie, le funzionalità di permessi degli utenti, eccetera, eccetera, che fino a un certo punto, e poi appunto dipende da uno come se la vuole impostare l'applicazione, però è tutta una serie di comodità che si integrano perfettamente con Flask e che ti semplificano ulteriormente il lavoro. Ecco, quindi, ora che vi ho convinti che Python è un po' meglio di PHP, vi spiego il workflow che uso di solito per questi progetti qui, che è questo, sostanzialmente si parte da un repository Git, si crea un virtual environment, si scrive lo scelto dell'applicazione, e poi si lavora tra database, coding e testing. Di solito si definisce prima un database, insomma si progetta, chiaramente il metodo migliore è foglio di carta e matita, e si progetta il database in modo serio. Una volta che si è definito lo schema a oggetti, si converte in schema relazionale, eccetera, quando ho le mie tabelle scrivo il database sul computer e creo il database effettivamente, e quella è la parte iniziale della struttura. Poi scrivo il codice, faccio dei test, durante i test potrebbe essere necessario modificare il codice perché magari ho sbagliato qualcosa, ovviamente. in alcuni casi potrebbe essere necessario cambiare il database, facendo i test mi accorgo che effettivamente avevo bisogno di un altro campo oppure che ne so, bisogna modificare qualcosa. E anche durante il coding a volte si può ricontrollare il database, però principalmente si fa coding e testing. Dopo aver testato si rilascia il codice o la versione dell'applicazione e questa va in produzione e quindi viene utilizzata dal cliente o chi che sia, insomma. Allora, partiamo con la creazione dei repository, che ho chiamato banana, quindi creiamo banana, ci spostiamo dentro la cartella banana, facciamo l'init del repository git e poi aggiungiamo l'origin remota se abbiamo un account su GitHub o Bitbucket. In questo talk non ho tempo di spiegarvi come funziona git in dettaglio, non è un corso su git, quindi chi lo sa già usare immagino che abbia capito tutto, gli altri possono cercare un tutorial, comunque sostanzialmente git è un strumento di controllo versione, quindi io ho un repository dove vengono salvati dei file, questi file mano a mano che li aggiorno posso fare dei commit, i commit salvano uno stato del progetto in quel momento, quindi le successive modifiche vengono tracciate, quindi io in qualsiasi momento posso tornare indietro nei commit precedenti e avere una traccia di cosa ho cambiato, perché ho cambiato quel codice, che riga ho inserito, che file ho aggiunto, che file ho tolto, eccetera, e quindi questo tiene la traccia di tutto il progetto di software nel corso del tempo. Git solitamente viene usato creando un repository in locale e sincronizzandoselo con un server git remoto. Ci sono due strumenti, due servizi molto famosi, che sono GitHub, che è quello più famoso in assoluto, o Bitbucket, che mi danno la possibilità di crearmi i miei repository remoti e quindi avere la sincronizzazione tra il mio portatile o computer e il loro server. Quindi io scrivo il codice, poi quando sono soddisfatto di quello stato lì faccio il commit e faccio il push sul server in modo che il server abbia una copia del mio repository e in mano a mano vado avanti così. E ogni funzionalità, ogni correzione, eccetera, diventa uno stato, un aggiornamento del codice e lo sincronizzo sempre sul server. Questo è un suggerimento di file gitignore, perché si può dire a git di ignorare alcuni file, tipo il file config.py. Di solito io lo lascio sempre in ignore, perché magari c'ha dentro delle credenziali, delle password, eccetera, quindi non lo sincronizzo con il repository, ovviamente. Lo ricreerò sul server quando avrò scaricato il codice, in modo che le password non ti vanno a finire il controllo versione, perché sennò dopo rischia che rimangano salvate dove non devono. Ok. Passo successivo è creare un virtual environment. Questo è un pacchetto di Python molto carino che ti consente praticamente di avere tutti i tuoi moduli di Python in una cartella, cioè invece di installarli sul sistema, installi dentro una cartella. Perché? Perché tu potresti lavorare a un progetto che ha bisogno di certe librerie, mentre un altro progetto ha bisogno di altre librerie, oppure della stessa libreria ma in una versione diversa. Quindi se io mi tengo tutti i miei environment separati in cartelle, non ho mai un conflitto tra librerie, perché sono tutti separati. Ogni progetto userà le proprie. Quindi allora con pip, che è il gestore pacchetti di Python, si installa il virtualenv, poi si crea il virtualenv, che io chiamo sempre venv per abitudine, perché così ho sempre lo stesso nome. E uso lo script activate, che viene prodotto dal comando virtualenv. e quando io faccio un activate, in automatico, nel mio terminale, virtualenv attiva quell'ambiente lì e io tutti i comandi che do successivamente so che hanno a disposizione quelle librerie di Python, finché non chiudo il terminale, sostanzialmente. L'esempio è per la shell fish, che vi consiglio di usare perché è molto più comoda di bash. Però se usate bash il comando è lo stesso, però senza punto fish. Ok? Poi tutte queste cose comunque verranno pubblicate, cioè non è che dovete impararvi il codice adesso a copiarvelo, verranno pubblicate anche le slide. Dopo, ecco, questa è la struttura del progetto in Flask, praticamente. Allora, c'è BananaPi, che è l'applicazione in Flask, BananaOSGI, che è la configurazione per Apache, che è il web server, che dopo installeremo. Un file di configurazione, di solito creiamo sempre un file di configurazione, dove ci metto i dati che mi servono e quello lo escludo da git, però metto un example che è lo stesso file con delle credenziali finte e lo metto nel repository così, la volta dopo che scarico il repository, ho già l'esempio che mi ricordo esattamente quali parametri dovevo avere. Ed ecco, è importante qua il file requirements, perché lì dentro scriveremo i nomi delle librerie Python che ci servono, cioè che abbiamo usato nel progetto. Questo significa che avremo sempre una lista di librerie e sappiamo esattamente quali componenti dobbiamo installare per usare il progetto software che abbiamo creato, perché senza quei componenti magari ci manca qualcosa, va in error tutto. Ok, dopo Flask ha due cartelle che lui guarda in modo particolare, che sono static e templates. Static viene utilizzato per le risorse statiche, quindi generalmente delle immagini o dei file che non cambiano mai, quindi la favicon ICO che ormai usano tutti una PNG, non usano più un ICO perché tutti i browser supportano PNG, e robots che sono indicazioni del motore di ricerca. Ovviamente questi due non sono obbligatori, però siccome su tutti i siti queste due risorse vengono praticamente visitate o da Google o da altri bot, o dal browser dell'utente ogni volta che naviga, è meglio metterli, anche se non sono obbligatori. E dopo abbiamo i template. I template sono dei file che generalmente contengono codici HTML e in aggiunta la possibilità di avere dei marcatori che usano il sistema di templating Jinja, che è molto semplice, dopo vediamo un esempio, che mi consente per esempio di inserire all'interno dei miei template dei for, dei cicli o dei segni apposti che dopo vengono sostituiti con dei valori, delle variabili, eccetera. Allora, il file principale, questo è un esempio base, 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 base proprio di file Flask che non fa quasi niente, ha due rotte fondamentalmente. La prima è quando l'utente visita la home del sito e semplicemente cosa fa? Chiama la funzione index e gli da come template home.html, basta. Se dentro home ci sono delle direttive Jinja, tipo dei for, eccetera, vengono eseguite e viene generato un file HTML, viene spedito all'utente. Vedete che i dettagli di come viene renderizzato il template, eccetera, non sono affare vostro, lo fa Flask in automatico, non dovete preoccuparvene. È una cosa, è tutto gestito in automatico. Poi ci sono le rotte del favicon e del robots che semplicemente gli mandano dalla directory static folder la richiesta, quindi se è favicon o se è robot. E dopo c'è una piccola riga che è utilissima, anche se non è obbligatoria, però è utile per testare l'applicazione, che se io richiamo il file direttamente, fa partire un web server sulla porta 5000 in modalità debug. Quindi io posso testare direttamente sul mio portatile l'applicazione senza fare il deploy sul server. Quindi non è che devo aspettare di spostare tutto sul server, oppure non è che devo installarmi sul portatile un server web tipo XAMPP, quindi scaricare il mega pacchetto di roba, installare tutto, il MySQL, eccetera, per fare il test. Perché Flask stesso dentro c'è un mini server che io basta che lancio e faccio il test. E l'applicazione che testo poi sarà la stessa che andrà spostata sul server di produzione. Ma sul server di produzione appunto useremo Apache, non useremo il server integrato di Flask. Quindi c'è questo mini mini file che serve a USGI, l'estensione di Apache, e vedete che semplicemente non fa altro di... cioè richiama l'applicazione che ho creato nel mio file che si chiama banana. Quindi qua in realtà questo file è sempre identico per tutti i progetti, basta cambiare solo il nome del file Python che è scritto là in basso. Tutto il resto è solo un aggiustare il path e nient'altro. Questo si copia e incolla sempre uguale, basta cambiare il nome e sei a posto. Allora, poi uno si fa il DB, adesso facendo finta che uno voglia fare un guestbook quando uno scrive... cioè che si registra col proprio nome, ho fatto un esempio proprio microscopico. Una tabella e come database possiamo tranquillamente usare SQLite. Che anche se alcuni pensano il contrario, in realtà SQLite non è fatto solo per applicazioni piccole come quelle per i cellulari, ma funziona molto bene anche sui server web. Il vantaggio qua qual è? Che il database è su un file. Anche qui non ho bisogno di installare sistemi, robe strane per gestire il database. Ho un file. È un file che comunque è utilizzabile con delle query SQL, ma anche questo... cioè se io devo sincronizzare i dati sulla macchina di test, prendo il file dalla macchina di produzione e me lo scarico. Ho i dati sincronizzati. Benissimo. Oppure se devo... la mia macchina di test la devo resettare, cancello il file, viene ricreato con lo stesso schema che è salvo in un file di test SQL e sono a posto. Questo è un ulteriore modo, oltre al fatto di non dover installare PHP, non dobbiamo neanche installare MySQL, quindi semplifichiamo ulteriormente la gestione del server. Poi se si vuole, Python naturalmente può funzionare con MySQL, con Postgres, con quello che vi pare, con Microsoft SQL Server, eccetera. Dipende anche da come viene... quello che viene richiesto dal cliente, però questo funziona in modo semplicissimo. Allora, esempio pratico di fare una rotta che abbia un senso logico, facciamo una root che si chiama guestbook e come argomenti in get gli mettiamo un parametro name. Quindi quando l'utente visita questa pagina mettendo il parametro name gli verrà fuori il messaggio benvenuto con il suo nome attaccato. Altrimenti se l'utente non ha inserito nessuna stringa name gli diremo chi sei e in entrambi i casi usiamo lo stesso template che è guestbook.html. In questo caso vedete che passando al template la stringa message io posso dentro al template avere un marcatore dove message verrà piazzato dentro. Quindi il template è quella riga lì e basta, è un'intestazione html. Al posto di message con le parentesi graffe python inserisce la stringa che ho generato io. Quindi a seconda del nome genera una stringa diversa. Se io avvio banana.py posso testare in locale senza aver installato Apache o altre robe testo direttamente in locale visito localhost 2.5000 bar guestbook punti domanda name uguale Andrea e mi dice benvenuto Andrea. Se io non avessi passato il parametro mi avrebbe detto chi sei come abbiamo visto il codice. ovviamente questo è un esempio proprio base 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 poi si possono fare un sacco di altre cose uno si mette tutte le rote che vuole si mette richieste sia get che post solitamente poi si mette un po' di model anche perché adesso non ho fatto vedere il modello ma poi potrebbe avere una classe che gestisce il database una classe che gestisce gli utenti e così via ovviamente però quello fa parte di progettare un'applicazione completa che non è lo scopo di questo talk però bene o male avete visto che Flask mi consente di scrivere il codice in Python comunicare con database cosa che non ho fatto vedere l'esempio perché sennò venivano un po' più righe però si può comunicare col database MySQL scusate SQLite e dopo testare direttamente sulla propria macchina il codice semplicemente lanciando un comando ora ah sono anche andato veloce quello che ci resta da fare è fare il deploy cioè abbiamo fatto il codice diciamo che a questo punto siamo soddisfatti dell'applicazione che abbiamo scritto questa applicazione la dobbiamo trasferire sul server che poi sarà quello definitivo che le altre persone useranno per collegarsi e usufruire dell'applicazione web allora il flusso del codice sostanzialmente è questo cioè dal mio computer trasferisco tramite git il codice sul controllo versione remoto che potrebbe essere bitbucket o github o anche un server git interno dell'azienda insomma un controllo di versione remoto dopodiché invece dal server scarico il codice che ho sincronizzato su git e il server avrà una copia di lavoro di quel codice lì e poi bisogna aggiungerci il file di configurazione che avevamo escluso e parte praticamente allora quindi io sul server creo un utente solo per questa applicazione qua quindi io di solito le cartelle le faccio in varvv faccio una cartella per l'applicazione quindi makedir banana ed user banana c'è una banana 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 su banana ovviamente questi sono comandi linux che potete controllare comunque sostanzialmente si fa una cartella dentro varvvv si aggiunge un utente che in questo caso si chiama come il nome dell'applicazione si danno i permessi di quella cartella all'utente e al gruppo cioè chown banana due punti banana vuol dire che dai i permessi di quella cartella la proprietà di quella cartella all'utente banana col gruppo banana e dopo si usa il comando su per loggarsi con l'utente che ho specificato lì quindi i comandi che ho dato adesso li ho dati come ministratore dopodiché passo a loggarmi come quell'utente lì che sarà l'utente che dopo lancia la mia app perché faccio gli utenti perché non faccio girare tutto come root per questione di sicurezza cioè ogni applicazione ha il proprio utente che fa girare i propri processi con l'applicazione web se uno trova un bug in una delle applicazioni che girano sul server e per qualche motivo viola quell'applicazione lì l'applicazione non sarà violata mentre gira con i permessi di root quindi non potrà devastarmi tutto il server ma potrà semplicemente fare danni solo su quella sezione lì mentre le altre applicazioni che girano con altri utenti che a loro volta non sono neanche loro amministratori saranno separate praticamente fa girare tutto con lo stesso utente non è consigliabile per motivi di sicurezza fondamentalmente ecco a questo punto l'utente è logato come quello che farà girare la app si fa il clone del repository che tra l'altro è un repository vero quindi io vi ho messo già il codice online su github potete scaricarlo e leggerlo e all'interno della sua cartella che gli è stata preparata si sposta nella cartella ed ecco la cosa interessante sul server invece io di solito non uso un virtual environment perché già l'utente stesso può avere dei pacchetti propri locali quindi se io come utente mi installo i pacchetti non da amministratore ma in locale i pacchetti mi vanno dentro la mia cartella quindi essendo che già l'utente è separato per ogni app posso evitare il virtual environment perché già ho la separazione delle cartelle quindi con pip il gestore dei pacchetti gli dico come utente di installare i requirement dal file di testo che avevo compilato in precedenza quindi con un comando posso installare 20-30 moduli quello che mi serve tutto in un colpo solo lui scarica i moduli li installa a quel punto devo solo inizializzare il database vuoto e impostare il file di configurazione se avevo messo delle variabili di configurazione questo va fatto solo alla prima volta che installo l'app non gli aggiornamenti successivi perché gli aggiornamenti successivi avranno già tutte quelle parti là a meno che io non abbia cambiato la struttura del database o i requirement cosa che comunque non è che se la fai ogni volta cioè di solito cerchi di avere una struttura stabile delle dipendenze stabili in modo che le cose stiano più statiche possibili allora su Apache ci sarà un file di configurazione del virtual host vabbè non sto a spiegarvi tutto comunque sostanzialmente c'è una sezione per il log degli errori una sezione che dice che l'utente che fa girare l'applicazione è l'utente banana che i thread disponibili sono 20 al massimo che lo script da eseguire è quello .wsg e poi che ha i permessi di eseguire tutti gli script e i certificati SSL sono la parte finale questo è il virtual host sull'SSL cioè 443 perché siamo nel 2017 non esiste che un sito non abbia SSL anche se in giro ne trovate però non è concepibile che un sito sia privo di SSL anzi TLS perché SSL è un po' obsoleto perciò questo è il virtual host del 443 il virtual host della porta 80 cioè HTTP liscio sarà semplicemente un ridirezionamento all'HTTPS quindi se uno per sbaglio mi visita in HTTP io lo mando direttamente in HTTPS subito su qualsiasi pagina e poi ovviamente i certificati vengono presi sull'Exencrypt oppure comprati ad hoc per l'azienda l'unico passo finale da fare è abilitare su Apache con il comando A2 and site enable site il file che ho appena creato detto questo io ho il sito attivato il codice che è stato clonato nel posto giusto i file che sono stati inizializzati correttamente perciò io ho l'applicazione che gira sul server in questo caso l'indirizzo dell'applicazione è su example.com perché potrei avere più virtual host allora questa parte di inizializzazione che per spiegarla ci ho messo un quarto d'ora ma per farla ci mettete sei minuti se proprio la prendete comoda è la parte iniziale cioè la prima installazione del software che io mi sono clonato dal mio repository le volte successive però vorrei un modo più semplice per aggiornare le modifiche che ho fatto è un lavoraccio di tre comandi allora si fa il push dal portatile il pull dal server si riaviva a push e finito questo è l'aggiornamento successivo che verrà fatto ogni volta che io faccio delle modifiche al codice push pull reload finito a posto questo ovviamente ti riduce notevolmente i tempi anche di gestione degli aggiornamenti perché non devi più fare copy trascinare decine di file vedere cose cambiare database eccetera beh cambiare database può succedere però è raro se lo cambi su mySQL magari ti devi invocare uno script o altre cose ecco invece qui abbiamo ridotto tutta la gestione degli aggiornamenti della maggior parte dei aggiornamenti a tre comandi il push il pull e il ricaricare a push bene e con questo direi che abbiamo terminato vi ringrazio per l'attenzione e sì su alcuni dettagli sono andato un po' veloce perché comunque lo scopo non era leggervi tutte le righe di codice quelle sono cose che trovate sulle mie slide che verranno pubblicate e sul codice che potrete fare potete fare il download dal link che ho messo lì però se volete farmi delle domande ditemi pure sì se non volessi farmi un'applicazione web a partire da zero diciamo a partire già da qualcosa che tu hai fatto come ad esempio l'autenticazione di tutti gli utenti multilingue e cose di questo tipo è una base su cui partire quello allora diventa un cms però cioè io mi stallo un cms con flask non lo so so che molti usano django che è simile a flask ma non è è simile sì ci sono che usano django quindi l'importante appunto forse una cosa che non ho spiegato molto bene non si può prendere un hosting a caso un hosting web e sperare che vadano perché molti hosting web semplicemente ti danno la possibilità di usare php e mysql punto perché come dicevamo prima tutti vogliono farsi male con php usano php e bene se tu vuoi usare un'applicazione web e installartela con python non ti dovrai prendere un hosting web ma ti dovrai prendere un vps cioè un server virtuale privato online che comunque non è non bisogna pensare perché alcuni sono convinti che il vps costi di più ci sono vps eccezionali che costano una miseria cioè io per dirti dei progetti miei che usano flask e altre robe c'ho un vps che pago 2 euro al mese in lituania che va alla perfezione quindi l'importante è saper scegliere il provider giusto non è vero che costano di più di un hosting web anzi sono hosting web che costano tanto e fanno veramente schifo quindi bisogna un attimo e l'unica roba è che appunto avendo un vps o un container magari open vc devi cioè tu diventi responsabile di gestire il sistema operativo perché ci sono aggiornamenti da fare ogni tanto però comunque tu hai il controllo root sulla macchina cosa che un hosting provider normale web non ti dà e quindi non puoi installarti certe cose avviare certi software che invece qua puoi gestirti completamente e questo è un grande vantaggio perché se sai un minimo cosa stai facendo hai molta più libertà di scelta sulle tecnologie che usi e quindi cioè se tu sei ti trovi bene a lavorare con python e flask qua ci lavori velocissimo se l'hosting ti costringe a usare qualcos'altro ti rallenta e quindi parli tempo e soldi ecco c'è un'altra sì quindi io faccio una patina faccio una programmazione in html ma il chiamo file no l'html non è una programmazione ma è un è un markup sì faccio il loro lavoro quello che chiamo file sì beh se uno vuole usare solo html non ha neanche senso il vantaggio qua è che dentro l'html posso mettere variabili cioè valori stamparsi dentro come abbiamo fatto sul nome del tipo esatto php quello che piace a molti principianti come piaceva anche a me quando ero un giovane inesperto che diceva che bello php metto in mezzo al codice metto i comandi php sì ma così mescoli la rappresentazione con la logica cioè invece se valutando pattern tipo mvc model view controller eccetera tu devi avere una separazione tra la logica e la presentazione e il modello dovrebbe essere tre modello logica e la presentazione quindi mettere tutto insieme al principiante sembra una cosa bella poi in realtà vedi che diventa ingestibile sì ma comunque anche con cose piccole ti stufi dopo dopo due giorni bene sì con Jinja puoi fare degli include template dentro altri template oppure cosa che secondo me è ancora più interessante hai un template che ha dei blocchi e hai un template che eredita il template padre in cui tutti i blocchi sono identici a meno che tu non gli fai l'override quindi hai come una classe tu hai tutte le sottoclassi finché non sovrascrivi il padre i metodi valgono come quelli del padre quindi sul template tutti i template figli hanno la stessa la stessa struttura di quello di partenza a meno che tu non sovrascrivi un singolo blocco a me è capitato su un'applicazione di avere un template master che aveva un blocco body che di default era vuoto ma tutte le altre pagine sovrascrivevano la parte body ma non toccavano il resto quindi le intestazioni e il fooder erano tutte fisse diciamo sì perché non è concepibile avere tipo il menu che la devi scrivere ogni volta non esiste proprio no il template tu richiami un render del template e gli devi passare i parametri poi dentro al template si possono fare alcune piccole cose di logica tipo non so se io nel template gli passo una lista posso fare un for dentro al template però l'importante è non fare tutti i calcoli dentro al template perché non ha senso cioè il template deve visualizzare se per visualizzare devi fare un for loop ok lo fai dentro lì ma quella è comunque visualizzazione non è logica bene se non ci sono altre domande è stato così chiaro wow perfetto bene vi ringrazio e tra un po' c'è il prossimo talk grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti